scuola per coach il podcast del coaching professionale in italia ciao da simone pacchiere benvenuto o benvenuta a questa nuova puntata di scuola per coach il podcast del coaching professionale in italia in questa puntata del podcast parliamo del diverse modalità di apprendimento del perché molto difficile apprendere davvero da un libro di sviluppo personale di coaching di miglioramento personale che in questo momento in italia iniziano ad essere diffuse migliaia di libri di sviluppo personale di tecniche di comunicazione di miglioramento per prendere decisioni per vendere per generare performance eccetera in cui ti spiegano nel libro le tecniche e le parole giuste per ottenere dei risultati per comunicare meglio per lavorare in maniera più efficace eccetera 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 non è che le tattiche e le tecniche di per sé siano sbagliate leggere un libro è un'esperienza però lineare organizzata in maniera lineare devi leggere una pagina dopo l'altra devi come dire attraversare le tecniche attraversare i contenuti necessariamente in maniera lineare necessariamente in sequenza solo che quando impari una tecnica in sequenza quando impari una tecnica in questo modo una pagina dopo l'altra sta imparando la tecnica raccontata sequenzialmente mentre quando la usi quando la devi usare devi usarla come dire nella sua interessa con tutte le possibili varianti che esistono nell'applicazione della comunicazione nella realtà l'esempio che faccio di solito è è come se volessi imparare a nuotare o a giocare a baseball o a come dire a giocare a calcio attraverso un libro in cui ti vengono spiegate prima la bracciata poi la gambata stile poi la respirazione eccetera 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 dovresti affrontare un capitolo alla volta il capitolo sulla bracciata il capitolo sulla gambata e così via solo che quando poi qualcuno ti butta in acqua o tu stesso decidi di nuotare queste cose devono avvenire tutte insieme devono avvenire nello stesso istante o comunque molto ravvicinate l'uno dell'altra mentre fai la gambata respiri mentre respiri stai anche portando la bracciata e qui accade tutta la realtà e c'è tutta la differenza nel mondo rispetto a imparare sequenzialmente le cose la stessa cosa nessuno mai si sognerebbe di imparare a nuotare attraverso un libro c'è però che molte persone cercano di apprendere di imparare tecniche di miglioramento personale di sviluppo personale di comunicazione attraverso dei libri o attraverso dei corsi organizzati in maniera sequenziale in maniera lineare non è che le tattiche le tecniche di per sé siano sbagliate nella maggior parte delle volte è che la loro applicazione molto spesso rischia di essere inutile per tre motivi fondamentali appunto il primo è legato alla linearità quando ti trovi nella realtà molto spesso è complesso decidere quale tecnica usare e quando usarla basandosi sulla percezione del contesto basandosi sulla realtà su quello che succede intorno io ho imparato una tecnica per annullare tutte le obiezioni nella vendita nel momento in cui sto comunicando con la persona innanzitutto c'è un problema che o comunico con la persona o sono dentro la mia testa a cercare di ricordarmi quale tecnica usare e quale parola dire ma soprattutto devo cogliere il contesto se è il momento esatto per usarla se è la situazione giusta e la percezione del contesto la comprensione del contesto qualcosa che spesso manca a molte persone che si avvicinano al miglioramento personale e che andrebbe appreso assolutamente prima di usare qualsiasi tecnica le informazioni che arrivano dal contesto i segnali del sistema che arrivano dall'esterno contengono gli elementi che spesso rendono l'uso delle tecniche efficaci e anche inaspettate agli altri possibile generare un effetto sorpresa di questo che molto spesso fa funzionare le tecniche che gli permette di generare risultati altrimenti qualsiasi tecnica tattica può essere prevista e facilmente anticipata neutralizzata da chiunque conosca la conosca annullando qualsiasi effetto sorpresa e qualsiasi vantaggio informativo il secondo motivo è che le tecniche di miglioramento le tecniche di comunicazione le tecniche di cambiamento hanno senso prendono significato quando sono inserite nel contesto di una intera narrativa la tua storia personale la tua personalità le tue le tue debolezze i tuoi punti di forza c'è questo che se hai una certa attitudine se il tuo modo di fare è sempre stato con delle abitudini e delle attitudini e delle tendenze a comportarti in un certo modo a prendere un certo tipo di decisioni voler andare all'improvviso tutto all'opposto e fare il contrario in ogni cosa non funziona nel lungo periodo perché dopo un po' moglie è come quelle persone che non hanno mai fatto un giorno di palestra e che dal primo gennaio si iscrivono in palestra e iniziano ad andarci cinque volte a settimana la cosa funziona per le prime due tre settimane dopo hanno un raffreddore restano a casa tre giorni e non riprendono più. La motivazione, il crederci forte, questa forza di volontà è importante ovviamente ma molto spesso le persone usano le tecniche in maniera meccanica si limitano a riproporre quello che dice il libro e a riproporre gli stessi strumenti, le stesse frasi le stesse domande potenti che hanno appreso così come sono mentre le tecniche vanno adattate è molto meglio per una persona che vuole cambiare e cambiare nella direzione della sua attitudine principale piuttosto che cercare di cambiare totalmente la sua personalità è molto più facile iniziare a introdurre dei cambiamenti legati a una persona che vuole iniziare a fare movimento a fare un po' di sport legati a qualcosa che già fa e che gli piace fare che è in linea con le sue attitudini, le sue abitudini, le sue esperienze e chi è la sua personalità piuttosto che cercare di stravolgere totalmente la personalità di qualcuno per fargli iniziare a fare sport e fargli iniziare a fare movimento altrimenti va a finire che il risultato è un coaching, un miglioramento personale che va bene per tutte le situazioni e che viene, dopo un po' diventa inefficace perché le persone hanno un rifiuto nei confronti di cambiamenti drastici che non rispettano la loro personalità il terzo motivo è che ogni volta che usi una tecnica di cambiamento una tecnica di coaching su te stesso o con gli altri in realtà questa va supportata dal tuo potere personale dalla tua struttura personale a funzionare non è mai il coaching, non è mai la tecnica non è mai il coach, non sono le domande potenti, la ruota della vita a funzionare sei sempre tu se non porti, se non usi le tecniche con una struttura personale un'organizzazione personale forte, ben formata niente di quello che fai funzionerà mai e questo è il lavoro del resonance dell'approccio al coaching che utilizzo da più di dieci anni insegno da diversi anni e qui lavoriamo proprio su questo darti la capacità di leggere il contesto di leggere la realtà, di costruire una struttura una struttura operativa forte da cui generare azioni efficaci e da cui ottenere risultati vedo tantissimi libri, tantissimi corsi soprattutto di coaching, di miglioramento, di cambiamento in cui il guru, il coach, il formatore passa il suo modo di fare le cose le sue tecniche, il suo approccio al generare risultati al successo e però ha davanti persone totalmente diverse da lui per cui quando queste persone cercano di implementare le tecniche che il guru, che il formatore gli ha passato funzionano per un po' ma essendo lui che le ha create non essendo loro poco queste tecniche si legano, si installano si amalgamano con la persona dopo un po' la persona smette di usarle e ovviamente non è colpa del guru non è colpa sua è semplicemente che però la persona non ottiene i risultati che si meriterebbe allora serve una comprensione della realtà una comprensione della persona nel contesto di quello che succede intorno per generare trasformazione non più cambiamento per generare una modalità di azione di essere nel mondo di funzionare nel mondo in cui la persona rimane com'è ma inizia a cambiare a trasformare degli schemi di inefficacia degli schemi che lo rendono inefficace amplificando ancora maggiormente chi è il suo modo di fare la sua personalità la sua identità rafforzando semplicemente la struttura a partire dalla quale opera se ti interessa se ti stimola anche solo ti incuriosisce questo approccio queste parole che ho appena detto puoi iniziare ad approfondire visitando il sito www.simonepacchiale.com ascoltando le altre puntate del podcast quelle future che registrerò e quelle passate che trovi in questo podcast entrando nel gruppo Coaching Italia su Facebook che ormai contiene circa 4.000 persone ci sono diverse imitazioni ma insomma è quello che contiene più persone più iscritti al gruppo e lì puoi dialogare con gli altri membri del gruppo e con me direttamente con me ti aspetto in una di queste modalità comunicative che ho predisposto per rimanere in contatto www.simonepacchiale.com il gruppo Coaching Italia il podcast di cui trovi già tante puntate e ce ne saranno tantissime altre in futuro e buona continuazione di giornata a prestissimo ciao da Simone Pacchiale scuola per coach il podcast del coaching professionale in Italia Grazie a tutti